ciao a tutte e benvenute in un nuovo video oggi per una questione di comodità sto registrando con la webcam del pc perché mi diventerebbe troppo lungo anche perché sono a casa da sola montare la telecamera la dovrei comunque montare sul cavalletto e mettere le luci quindi è più pratico anche perché comunque accendendo la softbox si riesce bene anche con la webcam del mac comunque non registra poi così male e vedete una postazione un po' diversa oggi faremo un video tag il video tag è stato ideato da Suntina F e io sono stata taggata da Paula Style che ringrazio ancora per essersi ricordata di me e del mio canale allora ignorate tutte le macchie rosse che ho perché a Torino si moriva dal caldo moriva dal caldo non è il termine esatto c'era tantissimo sole c'era un caldo non normale per la stagione essendo ad aprile perché c'erano oltre 20 gradi e quando è l'ultimo giorno noi siamo andati a vedere la reggia la veneria reale e abbiamo fatto la freccia di diana che è un trenino panoramico che fa fare la parte del giro basso dei giardini perché i giardini della veneria sono 80 ettari quindi abbiamo guardato sia il giardino alto che i giardini bassi con i mezzi che c'erano a disposizione sennò dovevamo stare lì delle giornate in tutto ciò sulla freccia di diana noi eravamo sul vagone dietro io ho beccato un'insolazione pazzesca mi è venuto un eritema quindi la dermatite io la pelle delicatissima quindi come prendo un po di sole viene subito una dermatite quindi vedete in faccia sulla fronte poco qua sul collo sul collo l'ho beccata tantissimo e quindi ce n'è ancora mi vedete così pazienza l'eritema è così e dovrò cercare una crema che non sia super appiccicosa per quest'estate ma io non pensavo che mi servisse già la crema solare adesso perché trovarla adesso non è che sia così facile quindi stavo facendo varie valutazioni per la crema solare da utilizzare quest'estate perché non andiamo da nessuna parte e c'è tipo mare e così via però io prendo l'insolazione comunque col sole normalmente e la compro solo che tutti gli anni sto comprando marchi diverse anche da farmacia ma sono appiccicose contando che io non mi serve né per andare al mare né per andare al lago quindi per bagnarmi o in piscina ma mi serve che la crema solare assolutamente non sia appiccicosa e le sto trovando tutta appiccicosa ho comprato anche quella della vene ed è lì l'ho comprata quando sembrava che a Roma c'è sembrava una carta moschicida quindi vediamo sto valutando quella della giust quest'anno e vediamo la protezione bimbi 50 perché sennò ci rimango stecchita allora iniziamo subito con il tag che il motivo del video iniziamo col titolo il titolo di questo tag è cosa non può mancare e iniziamo con la prima domanda le domande sono sei la settima è di taggare qualcuno iniziamo con la prima domanda cosa non può mancare nella tua borsa ragazzi allora il mio what's in my bag l'avete visto l'ho fatto non penso che faccia aggiornamenti nel senso che è sempre lo stesso magari forse quest'estate vi farò vedere com'è il mio zainetto che porto via quando andiamo a fare le gite che di solito ci incasto dentro di ogni in maniera un po' più piccola allora nella mia borsa prima cosa non possono mancare in esser con le medicine è una confezione piccola l'avete vista nel what's in my bag non è molto grande ma assolutamente non può mancare perché se mi dovesse divenire mal di testa mal di stomaco mal di pancia qualsiasi cosa io dietro tutto quello che mi potrebbe servire non mi serve quasi mai però è sempre meglio averlo dietro anche perché io molto spesso sto via dalla mattina alla sera e preferisco avere dietro tutto con me i fazzoletti e l'acqua e soprattutto la batteria il power bank per il cellulare quindi la batteria di riserva per il cellulare perché se no sono fregata domanda numero due cosa non può mancare sul tuo comodino allora sul mio comodino non può mancare la sveglia perché io ho la sveglia normale l'avete anche vista quella che ho acquistato a natale quindi quella fixia e dopo non può assolutamente più mancare il mar pack dom che è un emettitore di suono bianco quindi fa lo stesso rumore del ventilatore e ho in mente di farvi una recensione su questo prodotto è un prodotto americano quindi per chi è stato negli stati uniti sicuramente lo conosce perché lo si trova spessissimo è una piccola scatolina tonda che ha due tasti cioè il tasto è uno soltanto che ha la velocità uno velocità due ci sono varie regolazioni da fare sia sopra che laterali ed emette questo suono che è simile a un ventilatore che però permette di isolarsi un po dei rumori esterni quindi quelli che possono essere i rumori dei vicini e ti permette di dormire senza troppi problemi quindi quello assolutamente non può mancare è anche la bottiglia dell'acqua perché io bevo tantissimo allora domanda numero 3 cosa non può mancare nel tuo frigo nel mio frigo sicuramente non può mancare l'insalata perché ne mangiamo veramente tanta e soprattutto non possono mancare formaggi come ad esempio possa essere il gorgonzola io l'adoro per niente se mi viene una seta allucinante non so delle sottilette o qualsiasi tipo di formaggio perché io mangiando molto spesso fuori e dovendo mangiare velocemente mi faccio i panini però con l'affettato comunque mi viene troppa sete quindi preferisco mettere dentro la sottiletta o la crescenza di solito qualcosa di leggero ho il gorgonzola leggerissimo però è ottimo quindi anche quello non può mancare nella mio frigorifero domanda numero 4 cosa non può mancare nel tuo telefono allora io sono una maniaca di whatsapp quindi non può mancare whatsapp da quando l'ho conosciuto è diventata la mia divinità perché io lo uso tantissimo perché mi diverte tantissimo mandare messaggi vocali e soprattutto riceverne perché comunque mentre che se è il lavoro comunque io faccio un lavoro che i messaggi vocali li posso ascoltare perché comunque io poi uso l'auricolare sempre perché essendo abituata che a casa mia non prende la linea se il telefono in mano tengo l'auricolare anche a casa quindi whatsapp lo trovo molto comodo perché mi tiene molta compagnia mi permette di essere aggiornata poiché guardo abbastanza frequentemente quando magari sono tra un posto l'altro è facebook instagram lo so che viene usato tantissimo però per me non è naturale guardarlo come è guardare facebook è una questione di abitudini io sono più abituata come social a utilizzare facebook rispetto a instagram quindi comunque di per sé la cosa basilare per me è whatsapp domanda numero 5 cosa non può mancare nella tua agenda e rubrica allora ma per quanto riguarda i numeri o comunque i numeri delle persone principali quindi di mio marito mia mamma li ricordo a memoria quindi non mi serve guardarli sulla rubrica del telefono diciamo che io nella rubrica ho tutti quei contatti utili quindi come possono essere dei vari tecnici che possono servirmi e così via nell'agenda non lo so cioè nell'agenda tutto quello che ho all'interno dell'agenda per me è indispensabile quindi ho suddiviso la mia agenda in varie sezioni quindi che sia per quanto riguarda il planner ma più che altro sono le sezioni in sé che a me mi servono come sezione rubrica io più che altro ho messo magari le password quindi perché le trovo comode non password ovviamente che sono importanti ma password magari di vari siti in cui mi sono iscritta e le tengo lì e soprattutto il piano di risparmio che controllo spesso dove che tengo aggiornato quindi per me nell'agenda è essenziale domanda numero 6 sulla tua tavola cosa non può mancare l'acqua io non riesco a mangiare se non ho l'acqua contate che a pranzo e a cena bevo due litri d'acqua anche di più in estate quindi l'acqua sicuramente quella non può mai mancare domanda numero 7 taggare qualcuno io lascio il tag libero perché comunque è un periodo che la gente ha molti impegni molte persone che conosco sono un po' in stand by col canale quindi non mi va di taggare persone che comunque anche loro hanno i loro impegni io lascio il tag aperto a tutte le persone che lo vogliono fare che hanno un canale fatelo mi fa piacere mettetemi magari il link nei commenti così anche chi viene a vedere il mio video sa che l'avete fatto e dopo magari io lo posso aggiungere nell'info box in questo modo è più facile anche reperirlo e li metto tutti insieme quindi fatemi sapere chi vuole farlo io vi saluto e spero che il video tag vi sia piaciuto lo volevo fare in macchina però ho detto in macchina allora dipende sempre la luce che trovo vabbè oggi è una giornata nuvolosa quindi è un po' così però se dopo c'è il sole non si vede niente e soprattutto se ci sono tante persone che vanno avanti e indietro mi prendono un po' per una squilibrata che parla da sola guardando un telefonino che è posizionato in mezzo quindi per evitare queste situazioni un pochino assurde ho deciso ho detto facciamolo ai 5 minuti farlo prima di andare al lavoro il che mi sembra la cosa migliore quindi io vi saluto io spero che il video tag vi sia piaciuto io vi metto tutti i riferimenti compreso le domande nell'info box ciao a tutte e alla prossima